Green Pass continua a far discutere le categorie economiche, il decreto del governo che rende obbligatorio il certificato vaccinale per poter accedere a tutta una serie di attività che possono comportare un rischio assembramento o comunque di circolazione del Covid e delle sue varianti. Perplessi e preoccupati soprattutto i ristoratori. L'unica perplessità che io ho è come riusciremo noi a certificare l'identità della persona che ci presenta il Green Pass perché chiaramente bisogna fare un controllo tra un documento di identità e il Green Pass che loro ci presentano. Come faccio io a controllare il Green Pass e la gente devo fidarmi sulla parola e se dopo questo non ce l'ha cosa devo fare io? Vado tutto sempre sulla nostra testa. La domanda che ci poniamo è perché sempre noi? Ancora una volta la nostra categoria è stata presa di mira da parte del governo dando a noi l'onere di controllare la velocità dei famosi Green Pass. Lo strumento in sé non viene messo in discussione nemmeno la necessità di vaccinare ma dopo tanti mesi di chiusura questo nuovo provvedimento è visto come la goccia che fa traboccare il vaso. Siamo d'accordo con lo strumento per carità bisogna contenere la pandemia ma non siamo certo noi gli untori l'abbiamo dimostrato più volte rispettiamo quello che sono i protocolli i distanziamenti di igienizzazione quindi basta. Grazie. 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 Grazie.